Buona, buona beccane Al trentacinquesimo altro lampo del Lecce con il centravanti Aiu come quando Notari Stefano lancia Aiu e consente Alganese di premiare l'orgoglio del Lecce 1 a 4 Il Lecce non ci sta nella ripresa, vedete Aiu che sta cercando avendo sostituzione di Russo, proprio che vanno per battere Battistini sul passaggio di Cera Nicola